La comunità occidentale si sta interrogando su quanto questo conflitto inciderà nella loro vita quotidiana. Vi ricorderete di quando il Presidente del Consiglio ha detto che dobbiamo in qualche modo prepararci, non siamo ancora in luogo di necessità di razionamenti, però sicuramente in questo momento le imprese italiane stanno avvertendo che cosa significa, non solo sul piano del costo di questo conflitto, ma insomma c'era tutto il disagio economico che è derivato dalla pandemia, che anche questo ha impiegato due anni fondamentali. Insomma vi faccio vedere questo racconto che ci fa Giordano Verardi, tanto qualche minuto in più ce l'abbiamo pronti a interrompere il servizio. Cristina, parlo alla mia regista, se per caso dovessimo vedere arrivare Biden. Giordano Verardi. Giorgio Onorato Aquilani, responsabile di un'azienda che da 50 anni è leader in Italia per la trasformazione del legno e la realizzazione di prodotti da giardino. Quanto è aumentato il costo di produzione negli ultimi anni? Pre-pandemia, pandemia, guerra. Durante la pandemia abbiamo assistito ad un aumento stellare del costo delle materie prime, il legno è aumentato del 120%. Ora, come se non bastasse, si aggiunge la sua mancanza di reperibilità. Quelli dietro di me sono gli ultimi quattro pacchi di legno che erano disponibili dal mercato russo. Solo la materia prima per fare quel grigliato rispetto al 2019 si parla quasi del doppio. In più oggi sappiamo tutti quanti che i costi dell'energia e dei trasporti hanno un'incidenza fondamentale e aggiuntiva sul costo di produzione. Basta pensare, come risulta evidente con uno sguardo a questo grafico, che il costo di produzione del 2019 era di appena 23,10 euro, a fronte dei 39 euro che abbiamo oggi nel 2022 per realizzare lo stesso prodotto. Voi avete avuto anche un aumento in questi ultimi due o tre anni mostruoso per quello che riguarda il costo dei trasporti. Il settore dei trasporti è letteralmente impazzito. Basti pensare che alcune delle componentistiche che ci arrivano dall'Asia e viaggiano su dei container da 40 piedi, quello che pagavamo 4.000 dollari oggi costa 14.000 come trasporto. Ora c'è anche la contingenza del trasporto su gomma, che ovviamente si muove attraverso il carburante e sappiamo tutti quello che sta succedendo quando dobbiamo mettere un piano alla macchina. Quindi per chi si trova oggi ad andare in un centro commerciale per comprare una casetta, una pergola, un box, cambia qualcosa? I prezzi rimarranno stabili perché abbiamo deciso comunque di attuare una politica di calmieraggio sul nostro margine. Si sta facendo veramente insopportabile. Allora, padre Spadaro, lei diceva prima che certo ci dobbiamo ricordare che noi ragioniamo con il punto di vista occidentale europeo. Europeo, sì, è un po' troppo. Dovremmo vedere anche l'impatto che questa guerra ha nel mondo, soprattutto in un continente, ad esempio quello africano. L'85% delle importazioni di grano che fa l'Egitto arrivano proprio da Ucraina e Russia. Allora, che cosa? Mi fate segni? Va bene, ci ricordiamo della copertina di civiltà cattolica. Nel frattempo, ecco, mi sa che ci siamo, Claudio, che dici? Vedo le macchine che potrebbero... Potrebbero, sì, tra l'altro sono tutte, mi pare, macchine americane, quindi potrebbe... Il tema è Biden e cosa porterà a casa, perché naturalmente è un evento molto, molto importante e all'interno del quale la simbologia non basta. Se non si discuterà di avvicinare la Nato al conflitto, e penso che non si discuterà di questo, almeno non si arriverà ovviamente a una decennia di quel tipo, il tema è in che modo probabilmente l'America potrà dare una mano all'Europa dal punto di vista energetico. E oggi l'America, gli Stati Uniti e l'America, hanno una capacità di produzione di gas di quefatto molto importante e da quello che si capisce in queste ore potrebbe essere questa una chiave per dare un sostegno importante all'Europa per essere maggiormente indipendente dalla Russia, cioè più gas che arriva dall'America, meno gas che arriva dalla Russia e piuttosto che stare appresso ai ricatti di Putin sul suo gas, l'America potrebbe giocare un ruolo molto importante per questo. Indipendenza energetica uguale maggiore autonomia, uguale maggiori strumenti di pressione nei confronti della Russia. Ecco, poi chiaramente per quel che riguarda il gas liquido, evidentemente ci sarà bisogno allora di rigassificatori. Tenetemi, Cristina, tienimi questa inquadratura e direi che insomma all'attimo in cui vediamo, potremmo vedere il Presidente americano Biden, direi che a questo punto ci siamo. Matteo Giusti, una battuta anche con te, mentre continuiamo a vedere queste immagini. Sì, sono d'accordo. Il problema non è solo l'Europa ma è tutto il mondo, è una globalizzazione anche in questo caso e soprattutto io credo che il ruolo di Biden sarà determinante perché Biden ha puntato molto sull'Europa. Il suo primo viaggio è stato in Europa, ricordo che Trump andava in Arabia Saudita, lui viene in Europa, quindi con Biden ricomincia una grande alleanza Stati Uniti e Europa che in questo caso specifico e drammatico è necessaria e fondamentale. Comunque è un binomio che sta ricominciando a funzionare bene grazie all'amministrazione Biden e gli Stati Uniti sono autosufficienti per quanto riguarda il gas e per quanto riguarda le materie prime. Vediamo se riusciranno ad aiutarci, hanno già parlato di un'alleanza transatlantica per evitare che l'Europa dipenda dalla Russia. Nel frattempo, scusami Matteo, Matteo, ti interrompo un attimo per dire che abbiamo visto il presidente americano Biden e il segretario generale della Nato Stoltenberg che evidentemente si sono parlati, scambiati delle battute, stanno entrando nel palazzo della Nato. Ricordiamo che questo arrivo del presidente americano in Europa, non solo per il vertice della Nato, ci sarà il G7 e ci sarà anche il Consiglio europeo, è particolarmente significativo in questo momento storico, no Claudio? Sì, è molto importante perché segna un riallinamento degli astri che fino a qualche anno fa vedevano ai tempi di Trump l'Europa molto divisa, addirittura quasi considerata un competitor, da parte dell'America di Trump, oggi invece la Nato che lo stesso Macron considerava clinicamente morta anni fa da segni di grande vitalità e l'asse americano-europeo si è rinforzato da tal punto da essere il vero nuovo asse che guiderà il mondo. in questo momento ci sono il 50% delle economie che rappresentano, anzi il 50% del PIL mondiale oggi è contro il 2% del PIL mondiale che rappresenta la Russia, non sono dati da sottovalutare per capire qual è la potenza di fuoco anche economica che può esprimere questa alleanza. Allora, l'ultima battuta. Probabilmente forse la Nato si è sempre pensata in termini di guerra fredda, cioè probabilmente una delle cause di questa crisi è anche il fatto che non siamo riusciti a superare questo immaginario da guerra fredda. Quindi probabilmente questa situazione imporrà alla Nato anche una riflessione, una riflessione attenta su che cosa vuole essere, cosa può essere nel futuro. E domani ve lo racconteremo. Grazie per essere stati con me, Claudio Cerasa, Padre Spadaro. Grazie. Grazie.